vabbè mi dica, cosa rappresenta questo per lei? beh, è un uomo che fa l'amore con la sua donna e invece questo secondo lei cosa rappresenta? sembra un uomo che fa l'amore con la sua donna e questi? ancora un uomo che fa l'amore con la sua donna lei sembra ossessionato dal sesso ah, io? Bragasti Freezer, the free spirit in everyone grazie